Grazie a tutti. Si sente? Sentite abbastanza? Perché questa stanza è un po' organizzata, avete visto, un po' particolare. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Io mi scuso perché, come sentite, ho un problema di voce, per cui spero che non sia abbastanza sgradevole, ma cercherò di parlare anche poco, in modo che diamo maggior spazio ai nostri ospiti e non vi fastidisco con questa raucetine evidente. Allora, io questo incontro, l'avete visto, trasformiamo i dati in notizie e volevo iniziare citando una cosa che ho letto appunto sulla Columbia Journalism Review, che dice questo. La statistica è il nuovo giornalismo. Come una volta guardavamo le stelle, adesso osserviamo i database affinché ci rivelino nuove verità sull'universo e il nostro posto in esso. Questo ve lo dico perché appunto a fronte di una dichiarazione così impegnativa oserei dire che i database bisogna saperli interrogare, bisogna saperli in qualche modo usare, bisogna in qualche modo saper maneggiare queste cose. Noi dobbiamo riconoscere, qui ho dei colleghi che poi vi presenterò in maniera più dettagliata, che in realtà i giornalisti italiani in particolare, c'è un basso livello di numerosi, non c'è questa diciamo profonda cultura dei dati e dell'utilizzo e della loro come dire e come maneggiarli in qualche modo. Tanto è vero che insomma, per cui questa dichiarazione così impegnativa che comunque comporta ed è vero che ormai il giornalismo è data driven, in qualche modo questo significa che bisogna avere ormai un mix di competenze che non basta più essere giornalista in maniera tradizionale ma bisogna in qualche modo sapere utilizzare e avere degli skill tecnologici, degli skill di utilizzo delle tecnologie, bisogna conoscere i numeri, bisogna sapere tante cose e fare un mix insieme di queste competenze per poter lavorare. E l'incontro di oggi io l'ho voluto organizzare proprio perché volevo in qualche modo che parlassimo di questo problema anche delle buone pratiche e dei modi in qualche modo di utilizzare correttamente i dati affinché si possa come dire tirare fuori una lettura e una descrizione della realtà anche piena di notizie. Cioè non c'è bisogno di fare sensazionalismo per poter trovare una notizia, bisogna in qualche modo saper soltanto leggere i dati. Qui abbiamo ospiti tre colleghi, Marco Cobianchi, Marco Esposito e Roberto Petrini di cui vi leggerò una breve presentazione. Loro sono degli eletti che ho scelto perché sono tre giornalisti che in realtà sanno usare i dati per cui per certi aspetti rappresentano come dire non la maggioranza del giornalismo italiano ma rappresentano le buone pratiche del giornalismo italiano in virtù appunto di questa nuova realtà e dell'importanza che ha l'informazione quantitativa nell'informazione che occorre e per questo mi sembrava giusto parlare di buone pratiche anche perché non me la sarei sentita di invitare dei colleghi che avrebbero fatto anche qui del sensazionalismo attraverso l'utilizzo dei dati. Alla mia destra vestito di beige ho Marco Cobianchi che è nato a Milano ha una storia come dire giornalistica, guardo un po' gli appunti perché non è che mi ricordo la tua storia ha fatto il capo redattore a Venira, ha fatto il capo redattore a Panorama, è uno che ci prova che ha inventato tantissimi progetti, vi dico soltanto i nomi delle cose che ha fatto che già vi danno l'idea del personaggio bidone.com, bleffe perché gli economisti hanno previsto la crisi, non hanno previsto la crisi e continuano a non capirci niente ma nati corrotti e via dicendo. La cosa però diciamo ancora più interessante di Marco e con il quale fra l'altro in quel periodo abbiamo lavorato molto intensamente insieme è perché lui ha avuto il coraggio e anche come dire la capacità di farsela accettare nel 2012 di fare su Rai 2 se non erro un primo programma giornalistico che utilizzava i numeri e si chiamava se ricordo bene Numbers 3, numeri con il 3 al posto della E ed è stato un programma come dire dove dire diciamo in qualche modo dove Marco prendeva i numeri, li rappresentava, li visualizzava, li utilizzava eccetera. Ma questa passione poi è diventata una vera ossessione perché dopo questo lui ha deciso di buttarsi come dire un'air nella libera professione e ha fondato una sua diciamo testata associazione e quant'altro che invece si occupa appunto proprio di numeri e fa un lavoro di servizio giornalistico sull'utilizzo dei numeri per altre testate o per altri tipi di committenze. La società si chiama True Numbers. Accanto a Marco, alla sua destra, abbiamo appunto Marco Esposito, un collega diciamo professionista romano anche se c'è il cognome napoletano, forse origine napoletane, ma io su Napoli sono un debole. Allora è stato uno come dire dei protagonisti di giornalismo.com dal 2014 al 2017, anche lui ha fatto cose che si chiamano Caffè Scorretto, blog.it, cioè come dire i nomi sono come vedete abbastanza provocatori e questi vi dicono un po' dei personaggi. ha lavorato per la Sette, ha curato un blog sulla social tv per il messaggero e attualmente comunque la cosa come dire attuale, importante e si occupa anche lui molto di noi, ma più che altro si occupa dei numeri che produciamo noi, lavora appunto per l'inchiesta e per formiche.net. Ho lasciato per ultimo come dire Roberto Petrini per una serie di motivi, uno perché ci lega una come dire un'amicizia lunghissima, ci lega una colleganza credo anche anagrafica, Roberto Petrini, non ho bisogno di fare una lunga presentazione, è un notissimo giornalista di Repubblica, lavora da tantissimi anni, ha fatto inchieste importanti, ha scritto pezzi che sono riferimento, tuttora se leggete il giornale di ieri ne ha scritti due, assolutamente da non perdere, è uno come dire dei protagonisti della nostra rassegna stampa. Però detto questo anche Roberto ha scritto delle cose i cui titoli vi dovrebbero un po' far riflettere anche in questo caso. Il grande blef, perché non va l'economia di Berlusconi, una delle prime cose scritte nel 2002, il decreto dell'Italia, l'imbroglio fiscale, l'economia della pigrizia, ha curato gli iscritti economici rossi, capitalismo inquinato e poi recentemente ha pubblicato anche processo agli economisti. Vi ho voluto presentare queste biografie anche con una presentazione di tipo di titoli, diremmo qui all'Istat, per farvi capire che appunto il giornalismo e la comunicazione ha uno spessore e ha una capacità di produrre anche un sapere importante e a mio avviso scientifico che spesso non si pensa che lo ha in certi ambiti e in certi ambienti in cui noi viviamo. Cioè i giornalisti spesso vengono considerati dei personaggi che fanno, che arronzano e che si inventano le cose lì per lì. Partirei alle prime domande. Allora, cominciamo con Marco. Abbiamo detto che Marco ha fatto questa esperienza televisiva True Numbers, che è stata la prima, potremmo dire, web serie sui numeri per certi aspetti. Ha fatto data journalism, diciamo, ha tentato di farlo in televisione. Ecco, ti voglio dire questo. Siccome tu sei un giornalista imprenditore per certi aspetti, che vuol dire, per esempio, mettere insieme giornalismo, statistica, produzione televisiva, contratti, eccetera? Non so se si sente, sì. Intanto ringrazio molto dell'invito che mi onora, quindi spero di poter portare qualche contributo importante alla discussione. La trasmissione di cui parlava dottoressa Cacioli del 2012, appunto, si chiamava Numeri, ed è stata la prima trasmissione televisiva basata sul data journalism, non esclusivamente economica. Facciamo una puntata addirittura sul calcio. Poi, visto che siamo tra amici, posso dirlo, poi arrivò la moglie di un onorevole di Forza Italia, che per caso era componente della commissione di vigilanza sulla RAI e il martedì sera andò a lei. Ma queste sono cose che succedono e succederanno finché ci sarà vita sulla terra. Chiusa parentesi. Quella trasmissione lì, siccome Sant'Agostino aveva ragione che anche il male è bene, quell'esperienza lì si trasformò in True Numbers punto IT. Come viene spesso nella vita. True Numbers punto IT è il progetto al quale mi sto dedicando da un anno. Un anno fa ho lasciato la responsabilità dell'economia di Panorama e mi saranno soddisfazioni straordinarie. Non avrei veramente mai pensato a un successo di questo genere. Questo dimostra che c'è una fame di numeri notevolissima. Sul approfondimento su che cos'è True Numbers, che cosa fa, o meglio, no, scusatemi, il approfondimento su quali sono i problemi, chiamiamoli così in senso molto lato, che ho incontrato facendo True Numbers, ve ne parlerò molto brevemente dopo. Ora permettetemi sempre molto brevemente perché abbiamo sentito che bisogna stare di tempo, di prendere un po' la lontana, molto brevemente. Poche settimane fa, rimettendo a posto un po' i libri, mi è venuta fuori una pagina del Corriere della Sera del 1991 nella quale riportava una lettera inedita di Giovanni Testori a Renato Gottuso. Adesso ci arrivo perché cosa c'entra? Adesso ci arrivo. In quella lettera Testori contestava a Gottuso l'uso del colore e sostanzialmente gli diceva guarda che nei tuoi quadri, aveva appena visto una mostra dei quadri di Gottuso a Milano, nei tuoi quadri il colore si impone sull'oggetto. E faceva l'esempio di una fetta di cocomero, cioè il colore, che non era naturalmente rosso il cocomero, il colore si impone sull'oggetto. Questa è una riflessione che ho trovato veramente molto interessante. Allora, il giornalista Guttuso, giornalista trattino Guttuso di oggi, è quello che parte da ciò che lui pensa della realtà e poi cerca i numeri che lo dimostrano. Il giornalista Testori, giornalista trattino Testori, è colui che parte dai numeri e poi guarda la realtà e la descrive, utilizzando tra i vari strumenti anche i numeri. Quindi per me i numeri sono una spiegazione della realtà o meglio sono appunto uno strumento, uno degli strumenti di spiegazione della realtà. Ma vorrei approfondire questo tema perché la filosofia che sta alla base di True Numbers è esattamente questa. Nel senso che io credo che la realtà si imponga sempre sulle mie opinioni. Quotidianamente, noi per mestieri immagino che leggiamo molti quotidiani al giorno, italiani, stranieri, ma soprattutto quelli italiani, noi vediamo i giornalisti che partono da ciò che hanno in testa e poi cercano i numeri che lo dimostrano. E guardate che è facilissimo, io potrei dimostrare qualsiasi cosa. Poi qui ci sono delle persone molto molto più competenti di me che sarebbero capaci di dimostrare addirittura l'indimostrabile. Quindi la realtà si impone sulle mie opinioni, ma io ho una percezione della realtà molto limitata. Posso tutti i giorni leggere tutti i giornali del mondo, ma la mia visione del mondo resta filtrata e sarà sempre limitata. Cioè ciò che io vedo della realtà è sempre limitato. Un giornalista non sa tutto, spesso sa poco, pochissimo, un grammo e quel grammo è una visione limitata. Quindi sono tentato di prendere in considerazione solo i dati che confermano questa visione limitata. Allora devo necessariamente affidarmi ai numeri che sono una rappresentazione sintetica della realtà, che mi aiutano a non cadere nella tentazione di spiegare solo quello che penso io. Quindi in questo senso, per me e per Trunambas.it i numeri sono la realtà. Perché se non fosse così, allora io prenderei la realtà e la dimostrerei. Quindi se io penso che il colore preferito dagli italiani è il blu, io trovo i numeri che dimostrano che il colore degli italiani è il blu. Mentre io devo partire dai numeri per capire qual è il colore preferito dagli italiani. Per adesso mi fermo qui, poi magari proseguo. Grazie Marco. Diciamo che siamo partiti un po' con molta filosofia, un po' alti. Allora io chiedo invece una cosa, come dire, più inverata. Si sarebbe detto in un vecchio linguaggio dei nostri anni settanta. A Marco Esposito è una cosa. Cioè, visto che tu hai viaggiato anche con molta, come dire, voglia di fare chiarezza dentro l'estate dove hai lavorato per il lavoro che hai fatto, ti chiedo quali sono le pratiche migliori da mettere in campo affinché si diffonda un ecosistema digitale della informazione e non della disinformazione. Partendo anche da noi produttori di dati, anche da noi che lo offriamo. Cioè, come ci dobbiamo comportare per evitare che non si entri nell'ecosistema della disinformazione? Bella domanda, anche perché internet in questo momento è diventato la patria delle cosiddette bufale. Non che manchino sui giornali tradizionali, sui giornali cartacei, ma sicuramente questo tipo di disinformazione ha trovato terreno fertile sul web e soprattutto sui social network. Ne troviamo testimonianza quotidianamente. Prima Marco diceva c'è fame di numeri. Io direi c'è fame di buon giornalismo. E il buon giornalismo è la condizio sine qua non per cercare di non cadere nel trenello della disinformazione, di un ambiente di disinformazione. Qual è uno dei problemi? Ovviamente c'è una premessa da fare, la faccio in maniera sintetica. Il problema del giornalismo è che il giornalismo in questo momento sta passando, sta vivendo un periodo di crisi economica non indifferente. E fare buon giornalismo spesso e volentieri vuol dire spendere. In questo momento spendere per il giornalismo italiano è un qualcosa che spesso e volentieri al di là delle proprie possibilità, sia per le tante testate piccole e non piccole che esistono sul web, sia per i giornali un po' più grandi. Vediamo colleghi che vengono pagati molto poco per dei pezzi e quindi è anche difficile a volte pretendere il massimo dell'accuratezza purtroppo. Tornando a noi, la figura del giornalista classico un po' tutti abbiamo in mente, o dell'editorialista per meglio dire, colui che sta magari sulla sua torre d'avorio e come diceva Marco prima scrive il suo editoriale con un occhio sul suo mondo particolare stendendolo all'infinito. Questo sistema però sta avvenendo sempre meno. Io voglio provare a spezzare anche una lancia al favore del giornalismo sotto questo punto di vista. Anche sul web, anche con l'arrivo di tanti colleghi giovani, questo è un passo che si sta facendo, è un problema che si sta superando secondo me, almeno in parte. Prima dicevamo nell'introduzione che servono diverse competenze. Sul web questo si massimizza, cioè non basta più saper scrivere bene per fare il giornalismo, per tradurre un po' quello che dicevamo all'inizio. Bisogna avere delle capacità e ogni articolo che noi troviamo sul web dovrebbe essere infarcito oltre che di testo, di numeri, di grafici, di video, di link, di foto. Spesso e volentieri invece troviamo giusto una fotogallery. L'altro problema che secondo me stiamo vivendo è che ogni forma di statistica, l'Istat in questo in qualche modo per esempio ne è un po' vittima secondo me, c'è una guerra sui dati perché ogni parte cerca in qualche modo, politica, giornalistica, di utilizzarla dalla propria sponda. Come diceva Marco, noi dobbiamo partire dal dato per trarre la realtà o per quanto possibile per cercare di descriverla. Spesso e volentieri che succede? Che io uso il dato per far aderire la realtà a quella che è la mia teoria, a quella che è la mia parte. Purtroppo va detto, in questo va precisato, viviamo in un paese in cui esiste anche un giornalismo fatto di schieramenti. Quindi il dato viene interpretato, viene quasi tifato, mi viene da dire. E questo comporta una distruzione piuttosto importante, spesso e volentieri. Per cui vediamo che lo stesso dato viene da una parte utilizzato su certi giornali, da certe parti politiche, comunque un qualcosa di estremamente positivo per il governo in carica e qualcun altro che fa esattamente l'opposto. Questo ovviamente non aiuta l'ecosistema dei dati, non aiuta il vostro lavoro, non aiuta i lettori a capire quello che sta succedendo nel mondo. Il problema è che molto spesso questo tipo di articoli, questo tipo di utilizzo dei dati, facciamo fatica a farlo diventare agenda nel mondo politico. Questo è una delle chiavi principali secondo me. Fa più agenda la dichiarazione altisonante, il politico di turno, piuttosto che una inchiesta ben fatta con numeri e dati. Io ho preso alcuni dati a quali tengo molto, perché durante la mia direzione giornalettismo.com una delle cose che ho fatto è cercare di accendere i fari in questo paese sulla situazione giovanile. Mentre nei nostri giornali, i nostri politici, ma anche e soprattutto sui giornali, basta vedere sia online che offline l'utilizzo della parola pensioni, quanto è massiccio, la vera povertà si sta annidando tra le giovani generazioni. Vi leggo un paio di dati, sono ricavati dal documento del rapporto Censis dello scorso anno, non è neanche addirittura di quest'anno, è dello scorso anno, però mi colpirono molto e li usai in un articolo. Rispetto alla media della popolazione, oggi le famiglie dei giovani con meno di 35 anni hanno un reddito più basso del 15,1% e una ricchezza inferiore del 41,1%, eppure si parla soltanto di pensioni in questo paese. La ricchezza degli attuali millennial è inferiore del 4,3% rispetto a quella dei loro coetanei del 91%, mentre per gli italiani nell'insieme il valore attuale è maggiore del 32% rispetto ad allora e per gli anziani è maggiore dell'84,7%, quindi rispetto al 91% gli anziani di oggi guadagnano una ricchezza superiore dell'84%, i giovani si impoveriscono sempre di più. Eppure questi dati che descrivono la realtà in maniera oggettiva non riescono a trovare la giusta cassa di risonanza né nei nostri articoli probabilmente, non riusciamo a trasformarla in agenda e non riescono a avere il giusto riscontro e le giuste risposte dalla nostra classe politica. Accendendo un attimo, dico velocemente, questo che tu denunci, Marco, è un trend fra l'altro negli ultimissimi tempi, mi sembra come dire che in qualche modo nell'agenda politica i numeri abbiano una funzione un po' meno importante rispetto a un po' di tempo fa. Comunque a Roberto voglio tornare, vediamo se riesco a entrare nella carne viva, forse tu hai portato delle slide. E volevo sapere da te, ecco, tu hai sempre fatto, perseguito, come dire, in qualche modo sostenuto il giornalismo di qualità, fin da quando sei approcciato nella professione e questo è avuto un bel po' di anni fa. Ecco, che significa fare, diciamo, del giornalismo di qualità e che significa fare pure in modo e imporre che questo venga apprezzato. Raccontaci un po' tu come fai a fare i tuoi pezzi e come li costruisci. Guarda, Patrizia, intanto ti ringrazio per la presentazione, per avermi invitato e giustamente tu ricordi che abbiamo lavorato insieme, lavoriamo insieme da tanti anni e in te troviamo noi tutti un porto sicuro per avere informazioni, chiarimenti e devo dire che anche la comunicazione dell'Istat adesso non è per scambiarci dei complimenti, però è molto, devo dire, ha fatto dei passi da gigante. Io ricordo, visto e considerato che parli anche della lunga esperienza che abbiamo ormai in questo mestiere, ricordo che arrivavano per fax i dati, anche Marco Copbianchi se lo ricorderà, i dati dell'Istat ogni mese su un fogliettino piccolino piccolino scritti a spazio 1 in stampatello. Esatto, non si è, non si è, cioè era una cosa, era una cosa criptica complicatissima, cioè oggi se tu pensi che apri e ti fai il grafico col PIL, cioè l'automatica, voglio dire, siamo tempi assolutamente enormi, ma questo insomma fa un po' da reduci e quindi lasciamo perdere. Questa, io vorrei essere capito, intanto voglio fare una premessa, tenete conto, io ho portato le slide, ma giusto perché quando sono... Titolo da vecchio leone, eh? Sì, devo dire, no, l'ho fatto, sono le slide, ma non perché io abbia un pensiero strutturato su questa cosa, lo faccio semplicemente perché quando prendo gli appunti come molto di noi per parlare utilizzo il PowerPoint, quindi che non sia un atto di presunzione, anche perché devo dire quando, e forse questo è un valore aggiunto alla nostra testimonianza qui, quando mi capita di parlare di economia, insomma, di finanza pubblica, eccetera, sì, a quel punto io ho un pensiero strutturato, ma sul giornalismo non ce l'ho, cioè non so articolare sul metodo di giornalismo, non ho mai insegnato in una scuola di giornalismo, quindi la mia è semplicemente una testimonianza pura, come sgorga dal lavoro di tutti i giorni, quindi non mi sono mai confrontato, insomma, però su invito di Patrizia e dell'Istat ho provato a portare una sorta di testimonianza. Il punto qual è dal quale io vorrei partire? Dando naturalmente per scontate e devo dire assai giuste le considerazioni dei colleghi Esposito e Cobianchi, è cercare di fare un passo in avanti, perché il data giornalismo, data se vogliamo avvicinarci più al nostro modo di pronunciare, insomma, è ormai di fatto un qualcosa di scontato, nessuno più immaginerebbe di fare un articolo, di produrre informazione senza dei dati, come si dice, attendibili, no? Di fonte sicura. Quasi nessun articolo più esce senza dati. L'utilizzo dei dati era qualcosa che era molto presente negli articoli economici, cioè economia e dati andavano a braccetto e questo lo andavano persino negli anni, lo facevano anche persino negli anni 60. Il fenomeno nuovo degli ultimi anni è che i cronisti, coloro che si occupano di politica, coloro che si occupano di cronaca bianca, di cronaca nera, stanno utilizzando giorno dopo giorno sempre di più i dati. Tant'è vero che succede che, e questo forse i colleghi nelle redazioni questo fenomeno l'hanno avvertito, ma sono veramente delle sensazioni, succede che il giornalista economico che ha la capacità di trattare questi dati, capacità limitate, ma insomma certo non come il pubblico qua che si occupa di statistica, però insomma noi abbiamo una certa dimestichezza, spesso viene chiamato a intervenire su temi sociali, politici, non lo so, le presenze alla Camera dei Deputati, le opinioni dei sondaggi politici, cioè tutto il giornalismo è stato investito dai dati e vi testimonio che spesso a noi giornalisti economici ci viene chiesto di sforare, di saltare il confine e di andare dall'altra parte. Tutti i dati che riguardano la sociologia, insomma, o il costume dagli incidenti stradali, cioè una volta chi si occupava di cronaca nera si faceva un'idea un po' di quello che stava succedendo parlando con il capo della polizia stradale, oggi, no? Piglia, oppure con la questura, insomma mi pare che il concetto è abbastanza chiaro. Quindi il punto a quale dovevamo arrivare secondo me l'abbiamo raggiunto, cioè i dati sono assolutamente importanti, non si fanno gli articoli senza dati e i dati devono essere di fonte affidabile. Tuttavia il problema è questo, perché lo chiamo il mito? Perché a questo punto sul data journalism si sta costruendo, come dire, si è partiti e magari non ci si ferma più. Invece io dico fermiamoci anche a ragionare. Non consideriamo la parola dato come sinonimo di fatto, questo è il punto importante, perché se noi confondiamo, diciamo così, il dato con il fatto dal punto di vista giornalistico, rischiamo di cadere in molti errori, perché il dato non è sempre in quanto dato assolutamente affidabile e non è neanche vero, può essere fake assolutamente, può essere inficiato da una serie di problemi metodologici, no? Cioè dietro i dati. Quindi capisco che è tutta una questione nominalistica e che probabilmente, no? Dico delle cose che già ci sono chiare a tutti per quale motivo ci stai a raccontare, è chiaro, il dato è affidabile, se c'è dietro una manipolazione o se c'è dietro una truffa o se come in Argentina hanno arrestato il presidente dell'istituto di statistica, voglio dire, è chiaro. Però questo aspetto nei giornali dove c'è molta fretta, la nostra preparazione non è quella dell'economista o dello statistico, la nostra capacità di trattare i dati è abbastanza limitata, cioè ho fatto un esame di statistica, mi ricordo a malappena che cos'è lo scarto quadratico medio, ma però poi per il resto non è. Allora, questo è fondamentale perché altrimenti si entra nel mito del dato, nel mito, e si accetta il dato così com'è. E allora, questo negli appunti che mi sono preso, diciamo, io ho preso cinque errori da evitare ma ci sono cinque possibilità, o almeno quattro adesso, insomma, nelle cose che ci danno... ecco, naturalmente questo non... ecco. Allora, naturalmente noi cerchiamo di presentare, no? Uno delle nostre attitudini è quella, dice il titolo della nostra... dice come trasformare i dati in notizie, no? Beh, insomma, allora se io vi dicessi che il debito è l'1,3% del PIL, no? Voi naturalmente pensereste che io ho sbagliato perché tutti quanti sanno che invece è il 131,8% del PIL. Però se non ho fatto una gaffe enorme, secondo me il debito si può rappresentare anche come 1,3 volte il PIL, no? E allora voi vedete che la differenza è assolutamente enorme, non per chi fa lo statistico, perché mi ricordo un economista una volta, i vecchi economisti che erano abituati a sintetizzare le cifre, Silos Labini le rappresentava in questo modo qua. Però il giornalista, naturalmente, perché poi dietro c'è tutta una... anche una retorica, no? Su questa... sulla questione, perché magari è più facile anche rappresentarlo col 130 perché c'è i più decimali, insomma, voglio dire, ci sono tutta una serie di cose. Però, no? Io rappresento, rappresento un fenomeno, no? Con una cifra che fa meno spavento di un'altra. Quindi già questo è qualcosa che è un dato, è vero, no? Non c'è niente da contestare, eppure io l'ho in qualche modo, non so, manipolato è troppo, addomesticato pure, però l'ho rappresentato in un modo in cui, in un modo che ne attenua, diciamo così, l'impatto. Per cento è sbagliato, però 1,3 volte il PIL è... sì, sì, no, 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 per cento è sbagliato, 1,3 volte. È chiaro? No, 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 questo è sbagliato come cosa? No, 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 ma lo so, ma... No, 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 l'ho affrontato... Meno male che non c'è unito. Guarda, no, 1,3 volte, 1,3 volte, e ho chiamato... Ah, no, no, il per cento è perché l'ho fatto in fretta. È un recuso? Comunque, no, no, ma il ragionamento c'è dietro. No, no, ha ragione, ma infatti, no, no, me ne stavo accorgendo anch'io. Allora, gli immigrati... Ebbè, è chiaro che qui siamo a... Comunque, è scontato, no? Questo siamo d'accordo. Allora, gli immigrati a Malta sono aumentati del 300%, no? Ma se si evita di rilevare, di rivelare il numero assoluto, no? E la proporzione rispetto alla popolazione e al territorio, no? Non sappiamo bene. Questo è un argomento che è stato usato, no? Dalla destra, eccetera, dicendo guardate che sono aumentati... Poi alla fine si scopre che sono 35 gli immigrati. Quindi anche questo è un modo di presentare, è una manipolazione come quella macroscopica nel momento in cui si dice che il debito pubblico è 2.300 miliardi rispetto ai 1.700 miliardi di PIL, 1,3 volte il PIL, no? È come se fosse 130, 131.8% del PIL. Naturalmente ci sono altre cose che per un pubblico attento e di statistici come siete voi fanno assolutamente ridere. Però sui giornali spesso se ne trovano. Una l'ho vista su questo sito, credo che sia anche nel sito di Marco Cubia, se non mi sbaglio. queste false correlazioni, che è una delle robe che ci raccontano più spesso, un po' come i ladri vanno di notte, eccetera, Francesco e Giuseppe vanno di notte, quindi entrambi sono ladri, giusto? E allora, ad esempio, le apparizioni cinematografiche di Nicolas Cage e le persone che annegano in Drowned, no? perché in una piscina e vedete che c'è una correlazione netta, no? Tra le volte che Nicolas Cage appare oppure fa dei film, eccetera, e le persone che annegano in piscina. Chi potrebbe, no? Chi potrebbe smentirlo? Beh, è soltanto una logica basilare, insomma, che ti dice. Eppure potremmo, io non ho avuto tempo, come avete visto dall'errore Marchiano, insomma, di cose che ho fatto prima. Però, voglio dire, se ne potrebbero trovare tante di affermazioni basate su delle false correlazioni, soprattutto nei giornali. Questo abbiamo visto. E del resto, pensate soltanto, no? E questa è una cosa che a me sembra, chissà, di aver scoperto chissà che a voi vi... Però, pensate se la lineetta fosse sotto, no? Anche lì mi sarebbe piaciuto fare una roba che si muoveva, non sono riconosciuto. Però, facciamo finta che quel livello dell'acqua, no? Quella linea fosse il livello dell'acqua. E all'omino piccolo è al collo, no? E invece all'omino grande sta intorno alla cintola, se non sbaglio, la cintura, diciamo così, no? Se io aumento il livello dell'acqua del 14%, Patrizia, questa non è male, eh? Se io aumento il livello dell'acqua del 14%, l'omino piccolo affoga e l'altro grande invece si bagna solo il pancino. Quindi, anche qui, no? Facciamo attenzione, questo anche nel proporre, no? Non c'è mai una riflessione su quello che poi i numeri dietro hanno, no? Un 14% è uguale per tutti. Se vogliamo andare un po' più a fondo su questa questione... Ecco, quello non si muove, eccetera. I due nomini abbiamo visto. Sì, naturalmente questo lo... E qui, insomma, abbiamo visto come dietro ai dati ci possono essere tanti modi per... Dopo il dato, diciamo così. Ci sono forme di manipolazione, no? E ci sono forme di rappresentazione dei dati che possono dare una percezione diversa da quella che è la realtà. Quindi, per questo, sto cercando di dire che cosa c'è dopo il dato. E allora, c'è anche il fatto più clamoroso che il dato sia non vero perché dietro c'è una truffa o c'è una manipolazione dolosa. Tutti noi conosciamo il caso della Grecia, no? Dove nel 2009 aveva, come è emerso dall'Eurostat, insomma, aveva falsificato attraverso il proprio istituto di statistica il rapporto deficit-pill, no? Che poi a un certo punto uscì del 10% quando loro lo tenevano, non mi ricordo a quanto, insomma, comunque molto più basso. Se voi andate a guardare l'ultimo volume del World Economic Outlook, no? Quello uscito adesso, dovete sfogliare, avete la voglia di andare a sfogliare nelle pagine delle statistiche. E guardate Argentina, l'inflazione. Allora, nel 2013, 2014 e 2015 c'è una crocetta, cioè l'unico paese dove l'FMI rinuncia a rilevare, ad accreditare un dato di inflazione. C'è una notina sotto che dice, guardate, sia stato un tale casino tra il presidente dell'Istat, denuncia e cose di questo, Istat Argentina, insomma. Denuncia e cose del genere, per cui noi non ci pigliamo la responsabilità di rilevare un dato. E allora, ragazzi, queste sono considerazioni che, naturalmente, ciascuno di noi, tutti i nostri colleghi, quando parlano di dati, hanno ben presente queste cose che io sto dicendo. Però, no, il dato, non sempre, non si può partire dal dato per fare il giornalismo. Non si può partire dal dato, perché il dato, solamente dal dato. Bisogna partire dal dato, questo mi pare di averlo spiegato, no? Bisogna partire dal dato con consapevolezza, con la consapevolezza di quello che c'è anche prima del dato. Del resto, anche questo mi veniva in mente, adesso stavo sentendo, dopo il presidente Alleva, la direttrice molto simpatica generale di Eurostat, no? Ma, e questo io lo chiedo al mondo degli statistici, no? E io sono convinto di una cosa, che gli statistici sono molto sicuri e hanno in mano una specie di Bibbia quando si tratta di trattare i numeri. Però, poi, la verità è che quando si combatte sulle statistiche, si combatte sui metodi. Guardate Eurostat, cioè, voglio dire, io i numeri li faccio bene, no? Io se sono Istat, se sono Eurostat, se sono un singolo statistico, eccetera, non sbaglio i numeri, perché ci sono delle regole certe. Ma se io devo classificare il bilancio, l'intervento che c'è stato dello Stato sul Monte dei Paschi o sulle due banche venete, e lo devo classificare come aiuto di Stato oppure da un'altra parte, è lì, cioè, voglio dire, ma lì dove sta la scientificità della statistica? Lì è una trattativa politica su basi, naturalmente, scientifiche, metodologiche, serie, che però nasce spesso dai rapporti di forza. Quindi, voglio dire, e questo, adesso, questa è una impressione così molto superficiale, di cui sono convinto, ma, naturalmente, se uno andasse a vedere tutte le varie partite, ci accorgeremmo, insomma, che su conti pubblici, su cose fondamentali, come i prezzi, insomma, la statistica è fatta di queste, è fatta di metodologie e spesso anche di classificazioni, di norme, eccetera, che vengono trattate e sono frutto di accordi e quindi di politica. E di nuovo ci sono gli uomini dietro questi dati, dietro queste statistiche. Finisco, poi, rinuncio al secondo intervento, dico a Patrizia, perché... Ma so io che dopo ti voglio fare la domanda rispetto a quello che hai detto. Sì, sì, grazie. E allora, poi, questo, facevano accenno ai colleghi, no, naturalmente ai politici, diceva anche Marco Gobianchi, eccetera, no, spin doctor, quindi non è solo una manipolazione del giornalista, ma c'è anche una manipolazione di chi, di chi, di chi utilizza i dati, e lo diceva anche Marco Esposito, di chi utilizza i dati a fine politiche. E allora, e, ad esempio, ci sono, questo è dovuto anche alla scarsa cultura, diciamo così, economica, numerica, che poi, numerica, sai, non è mica, cioè, ci sono, ad esempio, mi chiarisco meglio, flat tax, no? Dice, sai, facciamo una flat tax, e cosa, che cosa c'è di più giusto che la proporzionalità? Se io sto a tavola, e sono un padre di famiglia, no? C'ho quattro figli, e ognuno taglia una bella fetta di pane, ognuno uguale, e io ho dato in proporzione. Mi pare che se uno avesse avuto tempo, oggi ci sono anche delle citazioni, dei Vangeli, insomma, che parlano in questo senso. Non vorrei andare avanti su questa roba dei figli a tavola, che anche lì mi verrebbe la cosa, però, si potrebbe anche lì, insomma, in qualche modo andare avanti, perché se il figlio è più grosso, quello c'ha bisogno della fetta di pane più grossa. In scienza delle finanze, sta roba qui si chiama progressività, no? Questo lo sapete tutti. Dice, ma perché? Perché? E allora bisogna sapere che c'è un'utilità marginale, no? Del denaro, no? Per cui, come diceva, in Audi, no? Con 10 lire, no? Il ricco ci compra la poltrona al teatro, e il povero, invece, ci si compra la minestra. Quindi, il denaro non ha lo stesso valore per tutti. Di conseguenza, dire che l'aliquota fiscale deve essere proporzionale per tutti, no? Qui, non parliamo di dati, no? Insomma, parliamo anche qui di dati, perché l'aliquota fiscale è del 15%, del 20% e il concetto di proporzionalità è un concetto che attiene ai numeri, no? È un concetto che attiene ai numeri. Però, il concetto giusto non è proporzionalità, ma è progressività. E tu, vogliono far capire perché ci bisogna insomma fare un ragionamento piuttosto complesso che attiene attiene quindi ai numeri. Allora, e infatti questo io l'ho scritto, vabbè, ci sono tante altre cose insomma che poi vengono fuori. Questa è una roba che ad esempio il povero vostro presidente Enrico Giovannini chiamava il giornale ogni giorno, quello sui giovani, no? Dire che... È un concetto difficile per far passare. Però io ho letto un articolo di... Citiamo il nostro collega dice il giornalista Dario Di Vico dal quale ho copiato questa cosa qui. Dove lo spiega benissimo. Cioè, e quelli tra i 14 e i 25 anni sono 6 milioni di questi 4,3 sono inattivi e sono soltanto 667 quelli che cercano loro. Quindi, tra coloro che cercano... Poi si può anche... Lì poi entriamo naturalmente. Dice sono inattivi perché sono scoraggiati. Cioè, ci sono mille mille cose sui quali insomma, comunque, no? E però... Però, naturalmente, anche qui, anche in questo caso. Un'altra cosa che a me mi ha sorpreso molto è scoprire che un terzo dei poveri, di questi famosi 4,7 milioni di poveri che sono in Italia sono immigrati. Io devo dire che non lo sapevo. L'ho preso dagli ultimi comunicati. Magari c'era sempre questa cosa, ma è colpa mia. E... E' chiaro che anche qui, cioè, i terzi, quarti, le proporzioni, i dati, entriamo in un mondo e anche qui, cioè, il dato serve, ma senza, sopra la politica, la riflessione che è fatta di tante cose, che va dalla morale alle technicalities come progressività, eccetera. Insomma, se tu mi rispondi che comunque sono tutti poveri, no? E come dire, sono tutti proporzionali. è vero, ma io come, se devo fare una policy, se sono un legislatore, eccetera, mi devi spiegare che un terzo della povertà proviene da ragioni diverse e due terzi provengono invece da altre ragioni. Non perché gli effetti ai miei fini di policy non siano quelli di far fronte immediatamente, senza se e senza ma, ma perché io devo avere degli elementi di ragionamento, la statistica che si chiamava, io non so se si chiamasse Statkunde quando è nata in Germania nell'Ottocento, cioè voleva dire scienza dello Stato, insomma, no? E quindi, voglio dire, serve anche a chi leggifera per poi prendere delle decisioni. Non so se c'è qualche altra cosa, aspetta. No, aspetta, aspetta un attimo. Ah, ecco, questa è un'altra cosa importante, Enrico Giovannini che secondo me è tra colori, senza togliere nulla bravissimi altri presidenti, eccetera, però, insomma, lui se ne è accorto presto di questa cosa qui, no? Dice, le tecniche, qui cambiamo, chiuso quella parentesi, andiamo avanti con altri problemi, insomma, no? E cioè, questa cosa dei grafici è veramente un fatto incredibile. Voi pensate, allora, una volta agli angoli delle strade c'era quelli lì che scrivevano una volta, nel senso all'inizio, alla fine dell'ottore, quando c'era un'altra analfabetizzazione, c'erano quelli che scrivevano le lettere, no? Per gli analfabeti. E poi, dopo, la gente ha imparato a scrivere e quel mestiere è finito. la stessa cosa succederà con i traduttori, con quelli che sanno le lingue, eccetera, perché la gente imparerà l'inglese e quindi non avrà più bisogno di pagare dei traduttori. Quello che sta succedendo è che anche con il nostro mestiere, noi avevamo la capacità di sintetizzare in qualche modo i grafici e le cifre con una tecnica giornalistica che ti dava la sintesi immediata della... sto a parlare troppo. Ecco, vi leggo l'ultima frase di Giovani. Le tecniche di visualizzazione offrono nuove modalità di comunicazione che consentono anche ai non esperti di comprendere il senso di fenomeni complessi sintetizzanti in pochi numeri. Infatti, vi arrivano a casa e questo è uno dei motivi per cui le fake news si propagano perché vi arriva a casa un grafico che non vale nulla e invece c'ha alla fine un contenuto e un impatto forte. No, chiedo scusa ai colleghi soprattutto. Deve essermi dilungato non parla di rinuncio al secondo intervento. Sì, vabbè, grazie Roberto. Roberto, hai messo in ballo tantissime cose eccetera. Io adesso proverò siccome abbiamo dei tempi per cui un giro veloce vi dico anticipatamente le domande così ognuno velocemente può rispondere rispetto alle cose anche per quello che avete detto e poi voglio dare a te una risposta alle tue angosce Roberto. La prima cosa che chiedo a Marco velocemente cosa che a noi interessa perché facciamo comunicazione statistica produciamo informazione veramente tu che hai fatto una trasmissione televisiva in qualche modo hai puntato a parlare con tutti hai cercato di far capire fra l'altro anche a un editore come la Rai di poter fare una trasmissione di questo tipo ha avuto quello che ha avuto come successo d'ascolti quali sono qual è stato il grande problema che ti sei trovato di fronte nel voler arrivare faccio a te poi volevo anticipare a Marco di chiedergli appunto una sola cosa l'inchiesta e formiche.net cerca in qualche modo di distinguersi dal rumore di fondo di fare un giornalismo che dia delle informazioni non solo vere ma anche originali che fanno pensare ci sono dei rischi in questa voglia di distinguersi a volte non c'è il pericolo che poi non si trovi il centro della matassa infine Roberto Roberto oggi l'Istat offre un'informazione come dire in qualche modo integrata nel senso che il tentativo che facciamo è di dare oltre che ai numeri ai dati anche delle informazioni nel tempo di corredo di incrociare proprio perché pensiamo che dobbiamo abbiamo la responsabilità di fornire un supporto più ampio all'analisi e alla lettura della realtà volevo chiederti se tu ti sei accorto o se ti è utile questa offerta diciamo in qualche modo questa informazione presentata in modo più largo rispetto ecco allora tu hai consumato già il tuo tempo vai Marco vai allora Patrizia mi ha chiesto qual è stato il problema principale nel fare la trasmissione in Rai il problema principale è stato il sensazionalismo cioè mi veniva chiesto di trovare lo scoop anche quando lo scoop non c'era e su questo c'è stato uno scontro molto importante perché ovviamente su questo non sono molto d'accordo con Roberto cioè per me i numeri sono veri cioè quello che dice l'Istat sulla disoccupazione è vero quello è il numero poi si potrà approfondire si potrà indagare eccetera però per me i numeri sono quelli dell'Istat dell'Ox questo significa noi non facciamo a turnambus.it questa filosofia l'ho portata noi non facciamo sensazionalismo non facciamo scoop e me ne vanto noi raccontiamo i numeri come l'Ox il fondo monetario l'Istat l'Eurostat tutti i ministeri degli interni di tutti i paesi del mondo addirittura quello turco producono in qualità come numeri quindi noi non facciamo sensazionalismo perché i giornalisti noi siamo normali turnambus.it è normale nel senso che i giornalisti in genere snobbano la normalità non gli piacciono la malità quindi si vanno a prendere i numeri della famosa associazione di artigiani veneti e qualsiasi boiata scusate il francesismo lo metti in prima pagina ecco questo io mi vanto di non farlo non abbiamo titoli che non ti fanno dormire la notte però quello che facciamo è vero aperta parentesi leggete oggi ad esempio l'intervista a Giorgetti che c'è sul Corriere della Sera peraltro una bellissima intervista a un certo punto il giornalista Giorgetti dice della Lega naturalmente dice ma voi parlate sempre che ci sono litigi tra Lega e 5 Stelle perché vi fa piacere e il giornalista gli chiede ma perché lei lo leggerebbe un articolo con il titolo tutto bene tra Lega e 5 Stelle ecco questo è esattamente il modo di ragionare proprio sul giornale di oggi sul Corriere della Sera di oggi bellissima intervista ma c'è questo quindi questo è il modo di ragionare allora quindi il primo punto la fonte per noi le fonti sono quelle ufficiali e tendenzialmente sono quelle governative quindi banche centrali di tutti i paesi del mondo la BCE naturalmente la Banca d'Italia per quanto di sua competenza eccetera eccetera non usiamo mai studi ricerche di associazioni che possono essere la Confindustria i sindacati i famosi artigiani anche sul Censis abbiamo un po' la puzzetta sotto al naso perché bisogna vedere da dove ha preso quei numeri il Censis quindi noi usiamo solo numeri ufficiali questo ci può essere diciamo la critica che ci può essere rivolta è quella di dire voi siete filo governativi noi accettiamo questa critica ma filo istituzionali ma rispondiamo noi stai tranquillo che noi non manipoliamo i numeri secondo gli skills dei giornalisti questo è molto importante naturalmente chi ha studiato economia statistica eccetera è avvantaggiato però guardate dirò una cosa che forse in questa platea è impopolare guardate che la skill più importante per chi fa data giornalismo noi a Tronambas abbiamo giornalisti grafici e anche un paio di economisti che usiamo per le cose difficili quindi i def eccetera però io mi sono accorto la mia esperienza mi dice che la skill più importante di un giornalista che si occupa di dati è di essere una brava persona qualsiasi cosa voi immaginate tanto ci capiamo quella è una brava persona sappiamo che è quello cioè una persona che non manipola i dati onesta intellettualmente cioè un testori vi ricordate l'esempio che ho fatto prima io quindi quando scelgo i collaboratori che lavorano a Tronambas voglio innanzitutto che siano la finita esatto no no io non lavoro affatto no voglio che siano delle persone che siano oneste intellettualmente quindi anche se tu pensi che immigrati a Malta tu la pensi in un certo modo ma i dati ti dicono un'altra cosa tu devi essere disposto a cambiare idea non è facile trovarli terza cosa i numeri non devono essere mai da soli devono essere sempre confrontati non correlati come diceva Roberto ma confrontati questo lo sapevo già ho avuto conferma nell'ultimo libro di Hans Rosling Factfulness stupendo libro tra l'altro aperta parentesi io ho iniziato ho fatto la trasmissione in Rai perché ho visto quel famoso video non so se voi l'avete visto bravissima quello lì quello un video straordinario lo vedete su YouTube ecco quel video lì mi ha cambiato la vita letteralmente nel senso che dopo quel video lì non ho capito quello della ricchezza delle nazioni speranza di vita eccetera straordinario io ho semplicemente io ho mandato anche un'email lui mi ha molto gentilmente carinamente risposto perché io ho fatto ho semplicemente visto quel video lì non ho dormito per una settimana e ho detto porca miseria qui bisogna fare qualcosa cioè non possono non possono farlo in Svezia e noi no quindi ho copiato quel libro lì facendo la trasmissione in Rai quel video lì mi ha letteralmente cambiato la vita ma ha cambiato addirittura il lavoro la ultimissima cosa ricordiamoci io parlo naturalmente per la mia parte quindi editoria comunicazione giornalismo eccetera il data journalism è e sarà sempre un'attività di nicchia fatto da pochi giornalisti che interesserà poche persone perché il presupposto parliamo dei big data il presupposto da cui parte il data journalism e big data eccetera è che tu usando la capacità informatica di entrare in centinaia di archivi e col data scrapping indagare milioni miliardi centinaia di miliardi di dati alla fine viene fuori un numero che tu dici ecco questa è la verità ora la domanda è ma voi siete così sicuri che la gente voglia la verità perché io non ne sono affatto sicuro io ho fatto scrivo su generale da quando avevo 17 anni sono ormai 35 anni io non sono affatto sicuro che la gente la gente vuole che tu gli dica i numeri che confermano quello che loro pensano punto vogliono questo allora e per concludere dico questo parafrasando un cantante che si chiamava Antoine un cantante degli anni 60 vi posso dire che se tu usi bene i numeri i lettori ti tirano le pietre se tu li manipoli gli esperti voi ci tirano le pietre quindi qualsiasi numero tu userai sempre pietre in faccia prenderai allora mi ricollego prima di rispondere a quello che ha detto Marco cioè oggi le redazioni la redazione fatta da tutti i giornalisti tutti bravissimi non serve a niente cioè nel senso è un paradosso quello che sto dicendo ma oggi 2018 me ne sono accorto guidando una redazione una redazione dei giornalisti non basta e non è più sufficiente per fare un'informazione completa e di qualità servono illustratori servono montatori servono operatori che facciano le riprese grafici serve tutto perché come era ben evidenziato dalle slide che abbiamo visto è molto difficile per un lettore tradizionale soprattutto in una testata web che può arrivare per mille percorsi sul tuo articolo tramite google tramite facebook tramite social network tramite qualsiasi cosa accompagnarlo nel processo di diciamo così di capire quello che tu stai dicendo attraverso i numeri tu lo devi accompagnare passo passo lo devi accompagnare anche spiegando il dato faccio un esempio molto pop quando ero giovane mi seguivo il tennis ero molto appassionato di tennis ebbi la fortuna di incontrare Rino Tommasi che era un famoso giornalista è un famoso giornalista di tennis soprattutto sì sì e lui ci fece siccome era uno dei primi giornalisti in Italia a usare le statistiche perché nello sport soprattutto nello sport gli Stati Uniti sono molto usati adesso è arrivato anche in Italia anche se di meno c'era una statistica molto impressionante cioè che un tennista molto poco conosciuto e non di grandissimo talento si chiamava Guillermo Perez Roldan era il miglior giocatore in risposta del circuito tennistico professionistica e tutti a chiedere ma com'è possibile la statistica sbagliata l'hanno manipolata e lui disse no lui gioca soltanto sulla terra sulla terra è più facile rispondere perché la palla va più piano chi gioca sul cemento perché ci sarà già stagione il cemento e la stagione dell'erba ha più difficoltà a rispondere perché la palla va più veloce schizza se tu questo non lo spieghi hai un dato che è vero perché è vero che Guillermo Perez Roldan rispondeva meglio di tutti a una percentuale più alta ma non capisci il significato vero di quel dato non dico che è sbagliato però non è completo non ti dice la verità su chi è il giocatore più bravo a rispondere per quanto riguarda invece la domanda sul sensazionalismo allora da una parte sul giocionalità è sul distinguersi diciamo però dal volersi distinguere al sensazionalismo a volte il passo può essere breve purtroppo cioè voler scrivere per forza l'editoriale in controtendenza rispetto a quello che è il che è una cosa che sul web guardate è un processo assolutamente che potreste calcolare quasi in termini statistici cioè arriva la prima ondata in cui tutti dicono A che schifo che schifo che schifo che schifo a un certo punto parte uno che dice eh beh però vale B non è solo A e tutti dopo appresso a lui quindi questo sistema funziona però bisogna stare attenti perché è scivoloso è scivoloso e basta un attimo per 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 inciampare ecco diciamo così allora Roberto è consumato tutto il tempo per cui stai buono zitto io soltanto volevo dirvi allora due tre cose due tre rassicurazioni uno volevo dire a Marco che noi abbiamo fatto una sessione come evitare la crisi del data journalism perché vanno tutelate anche le nicchie purtroppo neanche capito questo è il problema seconda cosa la cosa importante che volevo dire appunto già rassicurato Roberto che diamo un'informazione più larga questo ti permette come dire di aiutarti a interpretare il dato e invece per quello che dico a Marco che in realtà appunto l'importante secondo me è quella di avere un atteggiamento fortemente deontologico vi ringrazio e vi dico un dato personale io a volte sogno faccio dei sogni che a volte sono incubi a volte sono meravigliosi che cada la rete questo ve lo devo dire scusate sono andato tre secondi per associarmi a quello che diceva Roberto prima non vorrei che passassino osservato la mia esperienza è che l'ufficio stampa dell'Istat è il migliore ufficio stampa di tutti gli enti pubblici italiani gli mandi un'email gli mandi un'email ti rispondono dopo tre minuti non lo fa neanche mia moglie una cosa fantastica dovrebbero essere tutte così anzi lei fa finta di non averla ricevuta lei fa finta di averla ricevuta grazie grazie a tutti buongiorno grazie a tutti